Salve ragazzi, sono uno dei fratelli Geld e oggi andremo a fare il gameplay di Clash of Clans Domani porterò o il gameplay di Grand Theft Auto dove farò tre missioni Tre missioni per ogni video di Grand Theft Auto O porterò un altro episodio di Clash of Clans Se volete che... se volete che porti un altro... Cioè, se volete che domani porti un video con un altro gioco Consigliatemi nei commenti un gioco a voi scelta Un gioco bastardo, divertente che posso fare Comunque iniziamo subito con il video Io ve lo dico da adesso, non ho un villaggio molto buono Perché io gioco da un bel po' di tempo E ho portato il municipio dal 7 subito al 9 senza maxare tutto Quindi non prendetemi in giro perché ancora le mura livello 5, 2 Vabbè So che molti di voi pensano di più alle mura che a maxare il villaggio Però io non posso... cioè non posso... Non ho avuto tempo di maxare prima tutto E poi porteremoci, come vedete, al municipio di livello 9 Stoneclan Genesis Action, livello 4 Adesso sto potenziando Ho potenziato prima tutti gli estrattori di ore e delisir Adesso sto potenziando la tesla La tesla occulta a livello 2 Sto potenziando la torre dell'arciere A livello 7 che mancano un'ora e 58 minuti La pozione cura a livello 4 E sto potenziando l'estrattore di elisir A livello 12 che mancano due giorni e cinque ore Adesso Peccato che non ho fatto le truppe Intanto dico qui, salutate YouTube Così Lo fanno tutti, lo faccio anche io Se no Adesso Non so come fare Perché Qui nella mappa dei Goblin ho tutto Ho fatto quasi tutto Manca solo la torre di sorbetto Che ho fatto una stella La casa dei giochi di Peccato Ho fatto due stelle Beh Adesso Non so, faccio un po' di arcieri Qui Mi spiego un po' di gemme Non fa niente 10 gemme Facciamo più arcieri possibile Faccio solo arcieri Tanto per Per fare qualcosa Solo arcieri Ecco che ho fatto Ho gemmato tutto Ho gemmato 25 gemme Se non sbaglio Io ho anche lo scudo di 9 ore e 35 minuti Va bene, non fa niente Le pozioni non le faccio Perché non voglio spendere altre gemme Che dire Ragazzi Andiamo subito a fare un attacco In live Cerco di trovare Uno con i municipi fuori No, non credo di farcela Io non ho mai gemmato a questo gioco Lo dico da adesso Non ho mai speso soldi per questo gioco Perché Vedete che ho subito la ricina di arcieri Ma Cioè ho gemmato le gemme che ho preso nel gioco Ma non ho speso soldi per Per questo gioco Vado più avanti Tra un villaggio più facile da attaccare Non voglio fare già un fail A mio primo gameplay Allora Questo sta potenziando Andre Barbaro Allora Ecco qua questo Il Re Barbaro Allora metto Un arcieri Qua vedo cosa attira Ok Metto un po' di arcieri qua Attiro il Re Barbaro qua Perfetto Uccidiamo prima il Re Barbaro Perfetto Intanto qui stanno distruggendo il municipio Metto un arcieri qua Un arcieri qua Un arcieri qua Uno 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 qua Adesso tutti voi Tutti starete dicendo Ma tu non sei attaccare Refe schifo Ragazzi lo so che faccio schifo Però Allora Metto un po' di arcieri qua Io in questo gioco Ho sempre potenziato tutto Non ho mai attaccato Ho attaccato pochissimo Infatti Le guerre non le faccio quasi mai Attacco tutto da un lato Le risorse va bene Non fa niente Questa volta le risorse lascio perdere Poi la prossima volta Mi faccio trovare con un esercito già pronto L'esercito che uso io sono Sono domatori Pozioni curative E un drago Adesso non ricordo precisamente Quanti domatori faccio Però Vabbè Poi vi farò vedere Nel prossimo video Qual è la Qual è La mia disposizione Delle truppe Perfetta Quale esercito uso per attaccare Quale esercito uso per attaccare Quale caso mai Mi farò mettere in guerra E farò pure due attacchi in live Farò anche due attacchi in live Per la guerra Vabbè poi Vi diremo un po' Intanto sto facendo il 36% Partitivo Non so cosa fa questo Come si chiama Il guaritore Non so cosa fa Va bene Almeno ho perso 36% 40% Ho fatto Finito Ho fatto poche risorse Ragazzi Era un attacco fatto Così al vento Perché Non ho fatto un esercito Un esercito che uso io Non voglio neanche sprecare Tutte le gemme Perché Non vale la pena Sprecare un po' di gemme Quindi Questo Questo ho fatto un gameplay Solo per Fare un video In più per il canale Così da farvi vedere Come Quali gameplay farò I gameplay che farò per adesso Sono Clash of Clans Grand Theft Auto San Andreas E poi Vedrò un poco Quali giochi mi consiglierete E poi Più in là Più fra Un mesetto Inizierò I gameplay sulla Playstation Vita Vedrò un po' come registrare lo schermo E poi da settembre Farò i gameplay di FIFA 16 L'Ultimate Team I pack opening La divisione E poi la carriera allenatore Poi vedremo un po' Col passare del tempo Come Col passare del tempo Col passare del tempo Quali video fare ancora in futuro Thomas dice Go fuck yourself Vabbè ragazzi Intanto volevo farvi vedere Il più forte del mio clan Che è un livello In realtà È È È Satra Però adesso Lui Questa è un'accademia Dove sto Lui Sai Vai nel clan Madre Lui è campione Quattromila 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 colpe Se non sbaglio Livello Cento Centosessantanove Se non sbaglio Comunque Il più forte del clan Io sono livello Settanta Il più forte del clan Settantaquattro Settantaquattro Se per caso volete entrare nel mio clan Fate richiesta Con scritto Conosco Raffi Che io ne gioco Mi chiamo Raffi22 Allora questo è il villaggio Del mio capo Livello 75 È un municipio Livello 8 E io un municipio A livello 9 Sono livello 70 Ragazzi È imbarazzante Questo fatto Allora Il re barbara A 7 Io ce l'ho a livello 3 o 4 Barbera Al 5 Arciere Al 5 Gigante Al 4 Goblin Al 4 Spaccamuro Al 4 Mongolfiere Al 5 Stregone Al 5 Qualitore Al 2 Draghi Al 3 Pecca al 3 Sgheria al 2 Domatori All'1 Valkyrie All'1 Golem All'1 Fulmini Al 4 Curativa Al 4 E furia Al 5 Allora Io però I goblin Non li uso mai Infatti sono Sono messo A livello Inferno Se non sbaglio Livello 3 Adesso andiamo a vederlo Allora Barba Di 4 Re barbara 3 Regina All'1 Barbaro Al 4 Arciere Al 4 Gigante Al 4 Goblin Al 3 Spaccamuro Mangolfiere Al 2 I goblin Spaccamuro Le mangolfiere Non li ho mai usati Gli spaccamuro Li usavo Li uso di dato Ma non sempre Allora Poi gli stregoni Al 5 Quaritore Al 1 Che non li ho mai usati I draghi I draghi Al 2 Pecca Al 1 I sghieri Al 2 I domatori Al 2 I valchiri Al 1 I golem Al 1 I fumi Al 3 Le guarigioni Al 3 Che si stanno portando Al 4 E La furia Al 3 Ragazzi Datemi consigli Sul mio villaggio Lo so che le mura Fanno schifo Ma Non è colpa mia A me piace Accelerare subito Con i tempi Infatti ho portato subito Il municipio A livello 9 Stavo pensando Di portarlo al 10 Però Non voglio fare Questa stupidaggine Ragazzi Allora Il video è finito Spero Spero Che questo mio primo video Come gameplay Vi sia piaciuto Lo so che sono un po' In esperto Ma nei prossimi video Cercherò Di essere più Cercherò di parlare Di più E di essere più simpatico Se il video vi è piaciuto Lasciate un like E commentate E iscrivetevi al canale Nel prossimo video Ci sarà Forse anche il mio fratello Che adesso non c'è Sta in palestra Comunque ragazzi Ci vediamo al prossimo video Non so se domani Fa portare Un altro episodio Di clash of clans O portare Un altro episodio O portare Il primo episodio Di grande Tato San Andreas O Poi ragazzi Nei commenti Consigliatemi Qualche gioco Bastardo Allora Il video è finito Ragazzi Un salutone Un salutone Il video è finito Ciao ragazzi